Non è cane, non è lupo, sa soltanto quello che non è. La sera di Natale Italia 1 vi regala una storia vera che si tramandò come una leggenda. Facciamo che il mezzo cane curra! I cani lo allontanavano perché era mezzo lupo. Meglio tornare al tuo brano! Ma per gli uomini diventò un eroe. Allora, andiamo a prendere medicina. Uno dei più bei film animati prodotti da Steven Spielberg. Un'avventura che non dimenticherete mai. Balto, questa sera alle 20.45 su Italia 1.